Oggi ogni mille matrimoni ci sono oltre 300 separazioni e quasi... Ma certo, ma che si sposano a fare, no? Sì, lo so. La mia è proprio una bella famiglia. Una famiglia perfetta. Questa è la storia di come ho cercato di distruggerla. Sono andata a Hong Kong con il nuovo fidanzato giapponese di mamma. Sono andata a Los Angeles. Tu? A Troia. Perché mi avete mandato in quella scuola? Ma come c'è Patty, la figlia di Louisa? Io capisco il marito, i figli, ma un po' di divertimento ogni tanto. Non è mica un reato, no? Io avrei dovuto licenziarla molto tempo fa. Non erano certi più fighi sulla piazza. Papà e mamma si muovano sul serio. E questa per me era una vera tragedia. Basta! Voglio i genitori separati! Vorremmo puntare sulla gelosia. L'ho rimorchiata tre giorni fa e adesso mi si è attaccata alle palle come un gatto. Paola Baldini, la palena della prima B. Anna! Eh, Paola! Ma che c'hai? Forse un'idea? È un'occasione molto importante per il mio lavoro. Eh, e da qualunque si va a casa di una cliente a firmare un contratto, eh? Quanti sanno di questa cosa? Vale! Vale! Stamigloppa! Sorpresa! Sono tornata! E non andate nella tv! Oh! 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 Grazie a tutti.